Lotto numero 526, Nicola De Maria, il pittore, lo riconoscete, uno dei massimi esponenti della transaguardia, uno dei cinque, Chia, Clemente, Cucchi e Paladino, e Nicola De Maria, il teorico, il critico Achille Bonito Oliva, gruppo romano, adesso De Maria vive e lavora a Torino, quindi di fatto è qui, è nella nostra città. Il titolo è Il realismo romanticismo del 2005, le dimensioni sono 50x76, tecnica mista su carta, l'opera è firmata, datata e intitolata al retro, è datata sull'autentica, prezzo di base d'asta 15.000 euro. Vi vorrei far vedere, mi appoggio qui, vi vorrei far vedere che, come vi ho detto, c'è una piccola, eccolo qui, Roma, e qui c'è la firma di De Maria, e invece è già stato esposto alla Galleria Le Longue di Parigi, e potete vedere, questa è proprio, di fatto, l'etichetta della Galleria. Ora ve lo faccio vedere dal lato buono, la richiesta, come vi ho già detto, è di 15.000 euro, Nicola De Maria, il lotto numero 528, 26, scusate, del nostro catalogo d'asta. Collegatevi al nostro sito internet www.santagostinoaste.it per vedere tutto il catalogo della 119esima asta, il giorno 16 ottobre, all'ora e 21, asta completamente dedicata ad artisti contemporanei, italiani e stranieri, quindi di fama sia italiana che internazionale. Lotto numero 526, Nicola De Maria, 15.000 euro, il prezzo di base d'asta, 56x76 del 2005. Ora vi presento il prossimo lotto.